Ciao ragazzi, sono Gion95 e siamo su Sackboy Allora, in questo episodio andremo a fare questo livello Corsa disperata Siamo mai alla fine del gioco Naturalmente cercherò di far finire il gioco con il boss finale Però se non ci sono uscito vi avrò inserito qualche extra video dopo il finale Quindi una cosa in più Corsa disperata, speriamo che non sia troppo di corsa Ok, 25 secondi Hmm Dovrebbe durare poco allora No Aia Eh, va preso Ci sono troppi ostacoli Allora Sempre tu per calmi Non puoi stare fermo Una buona volta Basta Quando finisci il livello E' finito, è finito Vai fatto 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 Dorato Ok L'abbiamo fatto È pochissimo Ma che l'abbiamo fatto Ma che l'abbiamo fatta Quindi Se il video vi è piaciuto Invececi un bel like Un commento per darvi la vostra opinione Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Con il video giro per tenere a tenere a crescere E noi ci vediamo Ad un prossimo video A presto A presto